Com'è la pizza da Pepe Ingrani? Parti da st'informazione. Pepe Ingrani non è una pizzeria, Pepe Ingrani è un'esperienza. Tre generazioni, appresso al pane, appresso alla pizza, e poi lui. Col padre che gli dice, ma perché ammazzarti in cucina? Ma fai altro. Franco dice no, e con quello che aveva in mano, tira fuori da Cagliazzo, il suo paese, una dichiarazione di intenti. A forma di palazzo cinquecentesco, a più sale, ogni sala in cui compi un'esperienza differente. C'è quella più intima, c'è quella per stare in compagnia, in tutte quante devi resti a assaggiare assolutamente la nascosta. E poi pure la margherita sbagliata. Con sopra il pomodoro di Cagliazzo. Perché il pomodoro di Cagliazzo? Perché Franco Pepe va a parlare con i contadini, e la maggior parte degli ingredienti sul menù vengono proprio da Cagliazzo e dintorni. Così la pizzeria non è solo pizzeria, ma un sogno a più persone. Completare tutto la fantasia di Franco Pepe, che studia pizze dai forti contrasti caldo, freddo, densità differenti. Ma in tutte, a concludere, ci sta la gioia tua.